Ciao Giovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale dedicato al mondo delle ottiche. Oggi vi vorrei parlare del binocolo Zeiss Victory RF8x56 che è dotato di un telemetro laser con un calcolatore balistico e può dialogare inoltre con l'app Zeiss Hunting tramite sistema bluetooth. Costa 4.139 euro e beneficia di due anni di garanzia sulle parti elettroniche e di dieci anni sulle parti ottiche e meccaniche. Sul mio sito binomania.it troverete un lungo articolo di oltre 20 pagine dove è descritto alla perfezione questo binocolo e i test effettuati. In questo video io cercherò di sintetizzare le parti più interessanti. Inizierò subito dopo la breve sigla ma nel frattempo se volete potrete iscrivervi al mio canale. A tra poco non andate via! Uno dei pregi dello Zeiss RF come vedete è la totale forma da classico binocolo. Se per qualche motivo non notaste i due pulsanti sette e misurazione non vi accorgereste che possiede un cuore elettronico. Lo schema è a doppio ponte in cui è castonato come un diamante l'enorme ghiera della messa a fuoco. L'armatura di gomma è molto spessa soprattutto nella zona esterna dei tubi ottici. Lo scafo di magnesio invece ne è totalmente avvolto tranne una piccola zona. La mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 1112 grammi senza tappi ma con la batteria inserita. Il peso è decisamente sbilanciato verso gli oculari e questo come ormai sapete consente di affaticarsi meno durante l'utilizzo protratto. La posizione della manopola di messa a fuoco consente un minimo disalignamento del dito indice per operare su di essa. Ha una impermeabilizzazione di 400 millibar, è riempito in azoto e la sua temperatura di esercizio è compresa tra i meno 25 gradi e più 63. La manopola di messa a fuoco è una tra le migliori che ho usato. Precisa, molto fluida e decisamente grande. Ho calcolato una distanza di messa a fuoco di circa 3 metri e da questa distanza è necessario ruotare la manopola in senso orario di un giro completo per raggiungere l'infinito. La compensazione della diottria affidata è una ghiera presente sull'oculare sinistro. È molto grande con una perfetta resistenza per evitare spostamenti accidentali ed è ottimizzata con una scala graduata. Sul lato destro invece una ghiera dalla medesima forma serve per consentire la corretta messa a fuoco con i dati telemetrici di assistenza al tiro. Per una corretta regolazione vi consiglio di leggere la parte dell'articolo dove vi spiego la mia ricetta ideale. Gli obiettivi definiti FL, la cui miscela è ancora una ricetta segreta, presumo che comunque sia presente della fluorite sintetica, forniscono un contrasto molto alto e un'eccellente nitidezza. È nitido come il mio Victory SF 8x42 ma la resa dei colori è più neutra. Se non fosse un potente e complesso telemetro balistico soddisferebbe anche come semplice binocolo crepuscolare 8x54. Come tutti i formati 8x54, chi più poi chi meno, non fornisce un campo grandangolare. Inquadra infatti 120 metri a mille metri, ossia soltanto 6,8 gradi di campo che comporta un campo apparente di 54,4. I paraluce sono molto morbidi e non troppo grandi per consentire un perfetto comfort. Sono dotati di un sistema a estrazione a quattro posizioni con battuta, prima, seconda e battuta esterna e anche a 66 mm di distanza interpupillare sono sufficientemente comodi. Data la sua vocazione crepuscolare, questo 8x54 fa uso di luminosi prismi Abbe König che consentono di fornire una trasmissione luminosa ottima. La pupilla di uscita si è rilevata circolare e si nota soltanto qualche piccolo riflesso ai bordi dovuto alla cella che contiene i prismi. Anche lo Zeiss Victory RF 8x54 beneficia del noto trattamento Zeiss T che concede di ottenere delle immagini contrastate e luminose ma anche del rivestimento esterno protettivo definito Lotutec. Si tratta di un rivestimento inorganico repellente ad acqua, polvere, neve e impronte digitali. Evita inoltre l'agglomerazione delle gocce d'acqua facilitando nel contempo la pulizia degli obiettivi. Ci troviamo di fronte a un binocolo al top della gamma, quindi ha un ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica e è presente un po' di distorsione angolare per facilitare nell'uso in pinning e non essendo ovviamente ottimizzato per l'uso astronomico si nota un po' di come astigmatismo ai bordi del campo. Passo ora ad esporvi brevemente le caratteristiche del laser balistico. Nell'articolo però troverete tutti i dettagli. Innanzitutto vi dico che è alimentato da una batteria cr2 che è inserita tra i due ponti e questo consente di mantenere un design davvero binocolo. Tuttavia si perde la possibilità di avere una filettatura per il fissaggio sui treppiedi, caratteristica peraltro che è assente anche su tutta la serie Victory. Le sue caratteristiche però sono le seguenti. Allora ha una gamma di misurazione tra 10 metri e 2300 metri, una precisione di misurazione che è di più o meno un metro dopo i 600 metri e di mezzo metro a distanze inferiori. La durata della misurazione è inferiore a 0,3 secondi, mentre la lunghezza dell'onda laser è di 905 nanometri e possiede una divergenza del raggio laser pari a 1,6 x 0,5. Per quanto riguarda l'utilizzo dei pulsanti la lettura della distanza si attiva al rilascio e non alla pressione. Questo sembra un fattore un po' atipico ma in realtà io l'ho preferito perché mi sono trovato meglio nell'uso pratico in quanto potevo premere, eventualmente centrare con maggior precisione il punto e poi rilasciare il pulsante. Prima di descrivere le impostazioni del menu vi voglio confermare che ho preferito utilizzare l'applicazione Zeiss Hunting piuttosto che la combinazione di tasti sul binocolo. Ritengo infatti che sia più rapida e comoda nell'utilizzo. Il menu comunque è dotato di sette impostazioni, in primis c'è la regolazione della luminosità, la seconda impostazione invece racchiude la parte più importante dello Zeiss Victory RF, ossia il calcolatore balistico che è un software in grado di calcolare le variazioni di traiettoria di un proiettile sulla distanza, tenendo in considerazione sia la forza del vento, sia la temperatura, sia l'angolo di sito e le caratteristiche ovviamente del proiettile utilizzato. E' possibile scegliere tra nuove differenti curve balistiche standard che comprendono la maggior parte dei calibri. Come avrete quindi capito lo Zeiss Victory RF è facilmente personalizzabile, se tenete conto inoltre che il display è belleggibile e luminoso in tutte le condizioni di illuminazione, tranne forse essere pignoli su sfondi marroni chiari e in giorni assolati. Potrete comunque comprendere le sue reali potenzialità sul campo. Se utilizzerete inoltre l'applicazione Zeiss Hunting potrete sincronizzare le modifiche dall'app al binocolo e viceversa tramite il sistema bluetooth. L'app oltretutto integra tantissime funzioni utili sia al cacciatore sia al tiratore sportivo ma anche al semplice osservatore della natura. E' presente inoltre anche la funzione note sul campo per registrare immagini, colpi effettuati o avvistamenti importanti e tracciare delle posizioni specifiche sulla mappa attraverso il sistema GPS. Adesso veniamo a parlare della parte pratica. Lo so che è alquanto tipico inaugurare la parte pratica osservando la natura con un binocolo dotato di un sofisticato telemetro laser con calcolatore balistico. Ma ho apprezzato l'ottima nitidezza e la grande luminosità e la comodità della pupilla d'uscita. Inoltre è stato un vero piacere verificare le potenzialità del telemetro che ha mostrato delle stime a delle distanze decisamente fedeli anche su soggetti non proprio adatti come ad esempio le cime degli alberi spogli dove erano situate alcune garzaie. Dalla torretta di avvistamento a due piani infatti della riserva naturale Paluda e Brabbia sono stato in grado di compiere delle stime sino a 1600 metri di distanza. Inoltre l'osservazione del rapace anche in controluce ha dimostrato non solo un ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica ma anche una qualità che pochi appassionati prediligono ossia la capacità di un binocolo 8x54 di mostrare meglio anche in pieno giorno i dettagli del piumaggio in controluce. Nell'osservazione del paesaggio è sicuramente nitido e ben corretto anche se con poco campo apparente. Vi divertireste comunque senz'altro a stimare le distanze di ciò che vi circonda. Nell'uso crepuscolare quando utilizzo i binotelemetri di prezzo inferiore si nota sempre una evidente cadute di luce nell'oculare dove sono visibili i dati telemetrici. Questo in realtà non accade con lo Zeiss o quantomeno non ne sono rimasto deluso dato che grazie all'utilizzo di vetri di alta qualità di ottimi prismi abbe e degli eccellenti rivestimenti proprietari mi ha concesso una luminosità veramente molto soddisfacente. Per i curiosi appassionati di osservazioni astronomiche posso solo confermare che la resa ai bordi mostra delle stelle affette da come astigmatismo. Al centro però non delude per puntiformità e anche i bordi della luna piena grazie ai vetri definiti FL sono molto ben corretti per l'aberrazione cromatica. Inizio con il confermarvi per quanto riguarda le mie impressioni sul telemetro che avere questo sistema integrato all'interno di un binocolo di alta qualità e un piacere e una comodità non indifferente. Riguardo la sua precisione posso confermare che posizionato su cavalletto ha fornito delle ottime stime nei limiti dichiarati dalla casa madre. A mano libera il discorso è un po' differente perché dipende non solo dal raggio di divergenza come vi ho spiegato nell'articolo ma anche dalla nostra precisione nel puntamento. Grazie all'ampio diametro funziona molto bene anche al crepuscolo e ho compiuto varie stime controllando con un altro telemetro di alta qualità e anche con Google Earth. Soprattutto montato sul treppiede i risultati si sono rilevati veramente soddisfacenti. E' giunto adesso il momento di parlarvi dei pregi di difetti. Tra i pregi direi design da binocolo classico e prestazioni ottiche meccaniche da binocolo di alta qualità quindi al top della gamma. La messa a fuoco ad esempio è eccellente possiede un ottimo contrasto. Inoltre il laser è preciso, le informazioni visibili sul display sono nitide e contrastate ed è possibile personalizzare facilmente il binotelemetro attraverso anche l'applicazione Zeiss Hunting. Tra i difetti ho avuto qualche problema di lettura dei dati sui sfondi marroni chiari quando sono molto illuminati dal sole. La precisione a mano libera a lunga distanza dipende molto dall'utente quindi consiglio se possibile l'utilizzo di un treppiede se dovete essere molto precisi. Inoltre manca la filettatura per il collegamento col treppiede fotografico ma potete utilizzare ad esempio l'adattatore specifico prodotto da Zeiss. In definitiva il binocolo Zeiss Victory RF 8x54 si è rilevato un ottimo binocolo multifunzione. E' nitido, contrastato, luminoso e con un'ottima messa a fuoco che rivaleggia con i migliori top di gamma. La personalizzazione delle soluzioni balistiche è inoltre ottima così come la gestione attraverso l'app e la sincronizzazione immediata con il binocolo. Ritengo sia un ottimo strumento per gli appassionati esigenti che non amano il visore termico e che necessitano ancora di un binocolo di grande diametro per compiere delle stime precise anche in presenza di poca luce. Il binocolo Zeiss Victory RF 8x54 costa 4.139 euro e beneficia di due anni di garanzia sulle parti elettroniche e di dieci anni sulle parti ottiche meccaniche. Io ringrazio come sempre Achille Berti di Bignami che è il distributore ufficiale dei prodotti Zeiss per avere fornito l'esemplare oggetto di questo test. Ricordo inoltre che è possibile acquistare direttamente questo prodotto tramite il sito ufficiale che è bignami.it. Io oggi termino qui spero che questa recensione un po' tecnica vi sia piaciuta e vi aspetto come sempre su questo canale. Potete venirmi inoltre a trovare sui due siti web che sono Binomania dedicato al mondo delle ottiche sportive e dei telescopi e Termici e Notturni che è un nuovo sito dedicato alla strumentazione per la visione notturna e termica. Se ancora non l'avete fatto inoltre potreste partecipare al forum di Binomania o venirmi a trovare su Facebook sul gruppo Binomania Community. Vi chiedo inoltre per aiutarmi a divulgare questo sito se volete di mettere un bel mi piace e chi ancora non l'avesse fatto di iscrivervi a questo canale utilizzando il link qui in alto. Un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!